Buonasera, brevissima favola del giorno di Esopo, il lupo ferito e la pecora. Un lupo, morso da alcuni cani e ridotto male, si era sdraiato a terra e non riusciva a procurarsi da mangiare. Allora vide una pecora e le chiese di prendergli dell'acqua dal fiume che scorreva lì accanto. Se infatti mi procuri l'acqua, io mi troverò da solo il cibo. La pecora gli rispose, se ti darò da bere tu mi userei anche per mangiare. La favola è adatta a un uomo malvagio, abile a fingere mentre tende insidie. Arrivederci.